Capitolo 6. Il pugnale tunisino. Incontrai l'ispettore che stava rientrando dalla porta di comunicazione con i locali di servizio. Come sta la signorina, dottore? Ha cominciato a riprendersi. C'è sua madre con lei. Bene. Ho appena finito ad interrogare i domestici. Tutti dichiarano che stasera dalla porta di servizio non è entrato nessuno. La sua descrizione di quell'individuo era piuttosto vaga. Non può essere più preciso? Timo di no, risposi con ramarico. Era buio, capisce? Quel tizio aveva il bavero del cappotto rialzato e il cappello calato sugli occhi. Fece l'ispettore. Come se volesse nascondersi il volto. È proprio sicuro che non si tratti di qualcuno che conosce? Risposi che lo ero, ma senza troppa decisione. Non riuscivo a dimenticare la sensazione che la voce dello sconosciuto non mi fosse del tutto nuova. Con una certa esitazione lo spiegai all'ispettore. Dice che aveva una voce aspra da persona non istruita? Confermai, ma mi resi conto che il tono di quella voce sembrava quasi accentuato a bella posta. Se aveva cercato di nascondere il volto come pensava l'ispettore, non si poteva escludere che avesse tentato di camuffare anche la voce. Le dispiacerebbe tornare con me nello studio, dottore? Ci sono ancora uno o due domande che vorrei farle. Ha consentì. L'ispettore Davis aprì la porta dell'atrio, che aveva chiuso a chiave. Passammo e poi lui si affrettò a dare nuovamente un giro di chiave. Meglio non essere disturbati, disse con severità. Ed è preferibile che nessuno venga a oregliare alla porta. Adesso vuole dirmi che cos'è questa storia di ricatti? Ricatti! Esclamai sbalordito. È solo il frutto dell'immaginazione di Parker? Oppure c'è qualcosa di vero? Se Parker ha sentito parlare di un ricatto, dissi lentamente, deve essersi messo ad ascoltare dietro questa porta, con l'orecchio incollato al buco della serratura. Davis annui. Nulla di più probabile. Vede, ho condotto una piccola indagine per scoprire che cosa ha fatto Parker stasera. A dire la verità, il suo modo di fare non mi piace. Quell'uomo sa qualcosa. Quando ho cominciato a interrogarlo, si è nervosito e si è affrettato a tirare fuori una confusissima storia di ricatti. Presi subito una decisione. Sono lieto che abbia sollevato l'argomento, dissi. Non sapevo se raccontarle tutto o no. Avevo praticamente deciso di riferirle ogni cosa, ma aspettavo l'occasione favorevole. Tanto valeva parlarne adesso. Gli riferì per filo e per segno tutto quello che era accaduto durante la serata, esattamente come l'ho esposto qui. L'ispettore ascoltava con la massima attenzione, interrompendomi di tanto in tanto per farmi qualche domanda. È la storia più incredibile che abbia mai sentito, disse alla fine. E quella lettera è scomparsa. Brutta faccenda, davvero una brutta faccenda. Ora abbiamo quello che cercavamo, il movente del delitto. A noi. Me ne rendo conto. Dunque, signora Croyd sospettava il coinvolgimento di un membro della famiglia? Famiglia è un termine molto elastico. Pensa forse che potrebbe essere Parker, l'uomo che cerchiamo, insinuai. È probabile. Quando lei è uscito dallo studio, stava chiaramente aurigliando. La signora Croyd lo ha incontrato poco più tardi, mentre stava per entrare nello studio. Ipotizziamo che ci abbia riprovato quando la signorina se n'è andata. Pugnala a Croyd, chiude la porta dall'interno, spalanca la finestra, se la squaglia e rientra in casa da una porta di servizio che ha lasciato aperta in precedenza. Cosa gliene pare? Solo un'obiezione, replicai. Se a Croyd ha ripreso a leggere quella lettera appena me ne sono andato, come aveva intenzione di fare, non vedo perché avrebbe dovuto restare seduto in poltrone e riflettere sull'accaduto per un'altra ora. Avrebbe chiamato subito Parker per accusarlo e fargli una sceneggiata. Non dimentichi che a Croyd era un uomo collerico, Può darsi che non abbia avuto il tempo di finire la lettera, azzardò l'ispettore. Sappiamo che c'era qualcuno con lui alle nove e mezzo. Se lo sconosciuto è arrivato subito dopo che lei è uscito e se quando se n'è andato la signorina Croyd è entrata nello studio per augurare la buonanotte allo zio, beh, direi che non avrebbe potuto continuare a leggere la lettera fin quasi alle dieci. E la telefonata? Quella l'ha fatta senz'altro Parker, forse prima ancora di pensare alla porta chiusa a chiave e alla finestra spalancata, poi ha cambiato idea, oppure si è lasciato prendere dal panico e ha deciso che era meglio negare tutto. Non può che essere andata così, si fidi di me. Già, Già, risposi poco convinto. A ogni modo possiamo scoprire la verità sulla telefonata domandando al centralino. Se è partita da qui non vedo chi altri potrebbe averla fatta. Mi dia retta. È lui l'uomo che cerchiamo, ma per il momento acqua in bocca. Non è il caso di allarmarlo, finché non avremo raccolto le prove necessarie. Provedrò a fare in modo che non se la squagli. Dovremmo lasciar credere che la nostra attenzione è concentrata solo sul misterioso sconosciuto. Si alzò dalla sedia dietro la scrivania, dove si era seduto a sghimbescio, e si avvicinò alla sagoma immobile sulla poltrona. L'arma del delitto dovrebbe fornirci qualche indizio, osservò alzando gli occhi. Un oggetto unico nel suo genere, una rarità da collezionisti, direi. Mentre si chinava a esaminare attentamente l'impugnatura, mi accorsi che gli sfuggì un borbottio soddisfatto, poi con estrema cautela, premette le mani sotto il manico ed estrasse la lama della ferita. Reggendolo in modo da non toccare l'impugnatura, depose il pugnale in una larga ciotola di porcellana che ornava la mensola del camino. Già, disse Annuendo, un'autentica opera d'arte, non devono essercene molti in giro. Effettivamente si trattava di un oggetto magnifico. La lama era sottile, rastremata in punta, e l'impugnatura della complessa lavorazione dei metalli con vario colore, abilmente intrecciati, rivelava la mano di un artigiano esperto. L'ispettore toccò cautamente la lama con la punta del dito, quindi fece una smorfia di ammirazione. Mio Dio, quant'è affilata! Esclamò. Anche un bambino riuscirebbe a conficcarla nel corpo di un uomo. Sarebbe facile come tagliare il burro. Un gengillo piuttosto pericoloso da tenere in giro. Posso esaminare il cadavere ora? Domandai. Lui assentì. Faccia pure. Eseguì un esame approfondito. Ebbene? Domandò l'ispettore quando ebbe finito. Le risparmio la terminologia tecnica, risposi. Me ne servirò per l'inchiesta. Il colpo è stato vibrato con la mano destra da un uomo che si trovava alle sue spalle e la morte deve essere stata istantanea. Dall'espressione sul volto di Ackroyd si direbbe che il colpo gli è giunto assolutamente inaspettato. Con ogni probabilità è morto senza sapere chi fosse il suo assassino. I maggiordomi hanno l'abitudine di muoversi a passi felpati, come i gatti, osservò l'ispettore Davis. Non mi pare un delitto così misterioso. Dio un'occhiata all'impugnatura del pugnale. Forse non le risultano chiare, ma io le vedo benissimo. Abbassò la voce. Impronte digitali. Si tirò indietro di qualche passo per apprezzare l'effetto delle sue parole. «Certo», dissi pagato, «l'avevo sospettato». Quali ragioni aveva di considerarmi un perfetto cretino? In fondo leggo i romanzi gialli ai giornali e mi considero un uomo di intelligenza media. Certo, se le impronte sull'impugnatura fossero state di dita di piedi sarebbe stato un altro paio di maniche, forse avrei manifestato un certo stupore. Credo che l'ispettore fosse infastidito dal mio rifiuto di mostrarmi emozionato. Afferrò la ciotola di porcellana e mi invitò ad accompagnarlo nella sala del biliardo. «Voglio vedere se il signor Raymond ci sa fornire qualche informazione su questo pugnale», mi spiegò. Dopo aver chiuso a chiave la porta esterna, raggiungemmo la sala del biliardo dove trovammo Geoffrey Raymond. L'ispettore gli mostrò il reperto. «L'ha mai visto, signor Raymond?» «Beh, credo. Anzi, sono quasi sicuro che si tratti di un oggetto raro regalato a signora Croyd dal Maggiore Blunt. Viene dal Marocco, anzi no, da Tunisi. Dunque è questa l'arma del delitto? Davvero assurdo, stento a crederci, ma non può esistere un altro pugnale di quel tipo? Posso andare a chiamare il Maggiore Blunt?» Senza aspettare la risposta, Raymond si allontanò di gran carriera. «Che simpatico giovanotto», osservò l'ispettore. «Un tipo onesto e schietto». Ero d'accordo. Negli ultimi due anni, da quando a Croyd ha assunto Geoffrey Raymond come segretario, non l'ho mai visto agitato né di malumore. E so che è un segretario molto efficiente. Raymond tornò quasi subito, accompagnato da Blunt. «Avevo ragione!» esclamò emozionato. «Si tratta proprio del pugnale tunisino!» «Il Maggiore Blunt non l'ho ancora osservato», ribatte l'ispettore. «L'ho visto appena entrato nello studio», dichiarò il Maggiore. «E l'ha riconosciuto subito?» Blunt assentì. «Ma non ha aperto bocca», gli fece notare l'ispettore insospettito. «Non era il momento», replicò Blunt. «Quanti guai si combinano a parlare quando è meno opportuno?» Con la massima imperturbabilità, ricambiò l'occhiataccia dell'ispettore. Quest'ultimo bofonchiò girando le spalle e tornò da Blunt, con il pugnale. «È sicurissimo? Può identificarlo senza il minimo dubbio?» «Assolutamente, senza il minimo dubbio. E da dove viene conservato questo?» «Intendo questo oggetto così raro e prezioso. Dove viene conservato?» «Me lo saprebbe dire, signore?» Fu il segretario a rispondere. «Nel tavolino dell'argenteria in salotto?» «Come?» esclamai. Gli altri mi guardarono. «Sì, dottore?» mi incoraggiò l'ispettore. «Nulla». «Sì, dottore?» ripete l'ispettore, ancora più insistente. «Oh, solo una sciocchezza», spiegai contrito. «Il fatto è che stasera, quando sono arrivato per cena, ho sentito richiudere il coperchio del tavolino in salotto». Sul volto dell'ispettore lessi un profondo scetticismo e una traccia di sospetto. «E come faceva a sapere che era proprio il tavolino dell'argenteria?» Fui costretto a raccontare tutto, nei minimi dettagli, una spiegazione lunga e noiosa che avrei preferito evitare. L'ispettore ascoltò attentamente fino in fondo. «Quando ho esaminato il contenuto del tavolino, il pugnale si trovava al suo posto?» mi domandò. «Ah, non lo so», risposi. «Confesso che non ricordo di averlo notato, ma naturalmente questo non esclude che ci fosse. Sarà meglio chiedere alla governante», disse il rispettore e andò a suonare il campanello. Pochi minuti più tardi, la signora Russell, che Parker era andato a chiamare, entrò nella stanza. «Non mi sembra di essermi avvicinata al tavolino dell'argenteria», rispose alla domanda dell'ispettore. «Volevo solo controllare che i fiori nei vasi fossero freschi. Oh sì, adesso ricordo! Il tavolino era aperto, come non doveva essere, quindi l'ho chiuso». Lo guardò con aria aggressiva. «Capisco», disse l'ispettore. «Saprebbe dirmi se in quel momento questo pugnale si trovava al suo posto?» La signorina Russell esaminò l'arma senza scomporsi. «Francamente non saprei», rispose. «Non mi sono fermata a guardare. Sapevo che i signori sarebbero scesi da un momento all'altro e non volevo essere d'impiccio. «Grazie», disse l'ispettore. C'era una traccia d'esitazione in lui, come se avesse voluto rivolgerle qualche altra domanda, ma la signorina Russell interpretò quella parola come un invito ad andarsene e uscì in silenzio. «Piuttosto acida è la signorina», osservò l'ispettore, seguendola con lo sguardo. «Diceva, dottore, che questo tavolino si trova di fronte a una delle finestre?» Fu Raymond a rispondere. «Sì, di fronte alla finestra di sinistra. E la finestra era aperta?» Erano socchiuse l'una e l'altra. «Bene, non credo sia necessario indagare oltre. Qualcuno, per il momento non farò nomi, ha potuto impadronirsi del pugnale in qualsiasi momento e in quale momento preciso l'abbia fatto non ha importanza. Tornerò domattina con il capo della polizia, signor Raymond. Fino a quel momento terrò io la chiave di questa porta. Voglio che il colonnello Melrose veda tutto com'è adesso». «Mi hanno informato che era cena fuori, all'altro capo della contea, e credo che vi si fermerà per la notte». Vedemmo l'ispettore che prendeva la ciotola. «Dovrò farla imballare con la massima attenzione», osservò. «È una prova importantissima sotto molti punti di vista». Pochi minuti più tardi, mentre uscivo dalla sala del biliardo in compagnia di Raymond, quest'ultimo proruppe in una sommessa risatina divertita. Mi afferrò per un braccio come per invitarmi a seguire la direzione del suo sguardo. Sembrava che l'ispettore Davis insistette per chiedere l'opinione di Parker su un'agenda atascabile. «È fin troppo ovvio», mormorò il mio compagno. «Dunque è Parker il sospettato? Vogliamo essere tanto gentili da fornire all'ispettore Davis anche le nostre impronte digitali?» Tolse dal vassoio della posta due biglietti, li pulì con il suo fazzoletto di seta, poi me ne diede uno e tenne l'altro per sé. Infine, con un sogchigno, li consegnò l'ispettore. «Souvenir», disse. «Numero uno, il dottor Shepard. Numero due, l'umile sottoscritto. Quella del maggiore Blunt le verrà consegnato nel corso della mattinata». La gioventù è sempre allegra e piena di brio. «Nelmeno il brutale assassino del suo amico ed atore di lavoro era riuscito a togliere il buon umore a Geoffrey Raymond. Forse è giusto così. Non so, io ho perso da tempo la capacità di riprendermi. Era molto tardi quando rincasai e speravo che Caroline fosse già a letto. Povero illuso. Mi aveva preparato una cioccolata calda e, mentre la bevevo, mi estorse il resoconto dettagliato della serata. Non accennai nemmeno di sfuggita alla questione del ricatto e mi limitai a riferirle i dati di fatto sull'omicidio. «La polizia è sospetta di Parker», dissi, mentre mi alzavo e mi preparavo per andare a letto. Sembra che le prove a suo carico siano schiaccianti. «Parker!» esclamò mia sorella. «Quante sciocchezze! Quell'ispettore deve essere un perfetto idiota! Parker, figuriamoci! Non se ne parla neanche!» Dopo quell'oscuro proclama, salimmo di sopra per andare a letto. Salimmo di sopra per andare a letto.